Nelle prime ore dell'alba del 20 dicembre un equipaggio del nucleo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Agrigento è intervenuto e incontrato a Businè per le operazioni di salvataggio di un uomo di 38 anni residente in provincia affetto da disturbi di natura psichica che la sera precedente si era allontanato dalla propria abitazione senza fornire notizie. I familiari del giovane si sono accorti della scomparsa e si sono rivolti immediatamente ai carabinieri della locale stazione che hanno subito diramato le ricerche sul territorio. L'equipaggio del nucleo radiomobile di Agrigento ha quindi perlustrato una zona impervia insistente incontrata a Businè fino ad addentrarsi lungo le ripide pendici del vallone circostante ove nell'alvio del fiume sottostante hanno individuato un uomo che si trovava intrappolato nel fango fino al busto con un principio di assideramento in atto e in pericolo di vita per l'imminente rischio di annegamento. L'uomo quindi è stato soccorso dai carabinieri che sono riusciti a metterlo in salvo. Sul posto è intervenuto un'ambulanza del 118 che lo ha subito trasportato presso l'ospedale di Agrigento ove è stato sottoposto alle cure dei sanitari che lo hanno dichiarato non in pericolo di vita.